Ciao, mi chiamo Dario Pepio, 25 anni, sono un laureato in lingue e culture stranieri a Fisciano e le mie competenze linguistiche sono la mia passione, di fatti parlo cinque lingue, italiano, inglese, francese, spagnolo e russo. La mia passione anche per i viaggi, dovuta anche ad un'esperienza regressa a Londra, hanno fatto sì che la mia passione appunto per questo settore divenisse sempre più forte ed è stata anche incidente per quanto riguarda le mie esperienze lavorative. Di fatto ho lavorato per due anni come relazioni commerciali estere in una fabbrica conserviera ed è appunto questa mia grande passione per la comunicazione e soprattutto nell'affrontare il mondo del marketing che hanno fatto sì che io mi iscrivessi alla magistra in corporate communication e media con il settore curriculare di comunicazione pubblica di impresa e di pubblicità. Amo viaggiare, amo comunicare e soprattutto mi piace intraprendere percorsi in cui il lavoro non è soltanto fine a se stesso, bensì può essere un'esperienza di vita che può portare a gioviamenti non solo professionali ma soprattutto personali. Sono una persona dinamica, amo appunto socializzare e penso che le relazioni con il prossimo siano la base e solita per quanto riguarda anche un fruttuoso lavoro. Per battuta finale vi invito a contattarmi con l'indirizzo email dario944nonconlaibensicolaipsilonchioccelortemail.it o sul profilo LinkedIn Dario Pepe. Voglio salutarvi allora non solo in italiano bensì anche in altre lingue quindi ciao, good boy, au re, adios e dasvidanie. Grazie a tutti!